Buongiorno a tutti, io insegno a distanza dagli anni 90, per me è un grande piacere insegnare in e-learning e nel corso dei master universitari dove ho insegnato, insegno tuttora, specialmente presso l'università della Tuscia, ho sviluppato proprio anche delle modalità di insegnamento a distanza particolari che non so se farò in tempo a mostrarvela, però sicuramente fanno parte di un bagaglio interessantissimo. Allora, di che cosa parliamo? Io ho sviluppato questo tema diciamo in dieci punti, qualcuno magari dirà ma come tu che sei così orientato alla creatività, alla flessibilità, così proponi dieci come dire principi per l'applicazione di un sistema e-learning diciamo che porta dei risultati al successo dell'apprendimento? Beh, l'ho fatto perché diciamo per comodità innanzitutto, ma poi perché ragionare anche per punti ci dà l'opportunità di riflettere e la prima riflessione è questa, primo punto, combatti i pregiudizi, l'e-learning è un'opportunità. E beh, intanto noi che siamo qua in Piemonte a Torino dobbiamo considerare che durante il boom economico negli anni 50-60 avevamo un sistema di insegnamento a distanza che ha prodotto dei grandi professionisti, vedete questo elettrotecnico che si chiamava la scuola radioelettra di Torino, scuola radioelettra che ha sfornato migliaia di periti elettrici e radiofonici che operavano poi nelle grandi industrie italiane di quell'epoca e se vi ricordate, avete nozioni in merito, possiamo dire con una battuta che certo gli americani hanno inventato gli elettrodomestici, ma poi gli italiani gli hanno fatto vedere come si creano dei buoni e validissimi elettrodomestici e ricordo che l'industria degli elettrodomestici è stata una delle industrie principali trainanti del nostro boom economico. Ebbene, molti posti chiavi di questa industria sono stati creati attraverso la formazione di professionalità a distanza. Ma se noi volessimo riprendere oggi, per esempio, con un polo, un polo che si potrebbe dire magari molto complicato, forse assolutamente impossibile da replicare in quei termini, per esempio la scuola dell'infanzia, noi possiamo pensare ad una serie di attività come queste sulle quali abbiamo lavorato con alcune centinaia di insegnanti di scuola dell'infanzia proprio l'estate scorsa per una formazione, per cui, come vedete, gli insegnanti qui vedete questo pesciolino, gli insegnanti che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato dei bigliettini, quindi il servizio postale tradizionale per invitare i piccoli bambini a costruire degli oggetti proprio a caso, utilizzando le istruzioni che arrivavano per posta, quindi esattamente diciamo come avveniva con la scuola radioelettrica di Torino, vedete qui c'era questo soggetto che riceve la scatola e costruisce seguendo determinate istruzioni, poi scrive attraverso la corrispondenza e poi in occasione invece degli incontri a distanza tramite le tecnologie telematiche si costruivano delle storie, si raccontavano delle esperienze e si mostravano anche questi oggetti. Dunque dico questo perché abbiamo preso proprio due poli, come dire, opposti, diciamo un'estrema professionalità da una parte, bambini molto piccoli dall'altra, per il quale spesso si è detto la didattica a distanza è assolutamente negativa e invece noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo integrato degli aspetti. Quali aspetti abbiamo integrato? Fondamentalmente tutti, aspetti digitali, aspetti tradizionali, la carta, insegnamenti tipo se vogliamo istruttivo ma anche insegnamenti relazionali e basati su attività concrete. Perché? Perché in questo campo, cioè nel campo della didattica, le tecnologie non sono come lo sviluppo della medicina. Cioè se io oggi invitassi qualcuno a curarsi attraverso un salasso e lo riempissi di sanguisughe, penso che mi manderebbero qualcuno bravo e poi mi rinchiuderebbero da qualche parte. Perché? Perché c'è stata una evoluzione. Ora l'evoluzione tecnologica è scientifica in quel campo. Ora l'evoluzione tecnologica implementata sulla didattica non rende obsoleto gli insegnamenti, le metodologie, anzi invita l'insegnante a trovarne delle altre, a sperimentare e fa sì che una passeggiata socratica abbia il suo valore esattamente come c'è là un insegnamento a distanza di un certo tipo e molto tecnologico. Quindi il primo pregiudizio da combattere, secondo me, che vi propongo appunto di affrontare, è quello di considerare le tecnologie come degli elementi separati tra di loro che non si parlano e non possono essere integrati in metodologie. Poi vediamo cosa dice il secondo punto. Il secondo punto dice una piattaforma non è un ambiente, perciò allestisci l'ambiente. E qui vedete noi dobbiamo affrontare un tema che raramente viene sollevato oggi, perché si parla di strumenti e quindi ci si riferisce a piattaforme. Ma una piattaforma è un insieme di tecnologie digitali che consentono a dei soggetti di comunicare tra di loro, incontrarsi, svolgere dei compiti e delle operazioni. Queste piattaforme si possono chiamare Google Classroom, si possono chiamare Moodle, Docebo, quello che volete voi, ma sono delle infrastrutture, non sono l'espressione di una didattica. Perché? Perché se noi utilizziamo una piattaforma, quindi uno strumento, dobbiamo pensare però che questo strumento ci serve per costruire una relazione e che questa relazione è una relazione educativa. Ora, la relazione educativa si svolge all'interno di una scuola, vedete questo soggetto si reca a scuola e quindi trova il suo ambiente. La domanda è, ma perché nel momento in cui si reca all'interno di quella che normalmente viene chiamata una piattaforma, non si dovrebbe trovare, come dire, all'interno anche in questo caso di un ambiente? Per quale motivo si deve pensare che a scuola deve esserci un livello di accoglienza, ma a livello di piattaforma no? Per quale motivo? È un principio radicalmente sbagliato. Perché è un principio sbagliato? Perché non esiste una relazione didattica se non c'è una relazione educativa e qualsiasi relazione umana si svolge all'interno di un ambiente che deve essere allestito. Perché deve essere allestito? Beh, deve essere allestito perché così come io a scuola accolgo, quindi invito e accolgo il soggetto, lo stesso devo fare all'interno di una piattaforma che non diventa più una piattaforma, cioè perde la sua caratteristica dominante di essere una piattaforma per diventare che cosa? Un ambiente all'interno del quale si compie una relazione. Ed ecco che allora abbiamo per esempio dei meccanismi che delle aree di benvenuto, abbiamo la stanza degli incontri per incontrarci, abbiamo forme di sostegno, supporto, rinforzo, compiti, forum game, cineform, eccetera. Cioè cerchiamo di ricostruire quell'ambiente che consente al soggetto in apprendimento e al docente di trovarsi a proprio agio nella costruzione di questa relazione indispensabile. Certo, non tutte le piattaforme offrono le stesse possibilità in quanto allestimento di ambiente, ma io adesso non posso addentrarmi in questo tema, chiaramente tenete conto che ogni punto richiederebbe uno sviluppo particolare, però quello che bisogna sapere è che esistono sempre delle possibilità, delle opportunità, dei modi per allestire appunto un ambiente e realizzare un'accoglienza all'interno di questo ambiente per costruire questa relazione. Vediamo cosa dice il terzo punto. Il terzo punto dice sostieni la relazione, sostieni l'affettività fra soggetti. Come sostieni l'affettività? Beh, certo, una relazione, una relazione tra soggetti umani è innanzitutto una relazione affettiva. Oggettivamente esiste una relazione anche se diciamo in due svolgiamo un compito senza avere dei rapporti particolari perché dobbiamo ottenere un determinato obiettivo, ma questo non è sufficiente all'interno di un meccanismo di apprendimento. Perché non è sufficiente? Beh, intanto non lo era sufficiente neanche all'interno della scuola, dove sono presenti dei forti meccanismi affettivi. Figuriamoci se poi questi meccanismi affettivi dovessero sparire semplicemente perché siamo a distanza. Noi opereremmo un danno dal punto di vista proprio della costruzione della relazione. Allora possiamo, per esempio, interrogarci su come aiutare i nostri ragazzi a conoscersi, a conoscere meglio noi stessi i nostri studenti, a in qualche modo trasmettere degli elementi di conoscenza a tutti per far comprendere ancora di più che ci troviamo proprio esattamente all'interno di un ambiente nel quale la relazione viene costruita e dunque per valorizzare la nostra caratteristica di essere dei soggetti umani. E abbiamo tante opportunità, io ve ne mostro qualcuna per esempio, possiamo svolgere delle inchieste per raccontare la nostra passione, cioè la nostra passione di insegnanti, la nostra passione di studenti e condividere queste storie e raccontarle. Possiamo trovare qual è il nostro posto nel mondo, per esempio, che è una tecnica che io uso molto e che utilizza le mappe di Google, per esempio, affinché un soggetto possa trovare liberamente all'interno del planisfero il suo posto e poi raccontare la sua esperienza e spiegare perché quel posto rappresenta la sua passione. Possiamo suddividere i ragazzi in gruppi, per esempio, per passioni affini. Possiamo fare una serie di attività, come quella di progettare, per esempio, gli ambienti relativi alle tue passioni, dalle quali possono nascere una serie di compiti che riguardano diverse discipline. E, però, se noi siamo all'interno di un ambiente nel quale accogliamo i nostri studenti, stabiliamo quale può essere, diciamo, il posto di ciascuno ideale nel mondo, raccontiamo quello che siamo, le nostre passioni, condividiamo il lato umano e affettivo, vuol dire che, in fin dei conti, stiamo intraprendendo un viaggio. È un viaggio quello che noi ci accingiamo a compiere all'interno di un percorso di apprendimento. E allora, dato che siamo insieme, dato che intraprendiamo un viaggio, potrebbero esserci delle regole di ingaggio. Chiamatele come volete, chiamatele punti d'accordo, di accordo per intraprendere questo viaggio. A me non piacciono termini tipo patto educativo, termini molto istituzionali che burocratizzano e tolgono la bellezza di costruire qualche cosa di così profondo con i ragazzi. Quindi preferisco chiamarle proprio così, dare un nome che indichi proprio il percorso che tutti insieme ci accingiamo a fare. E queste regole di ingaggio possono essere benissimo stabilite anche con bambini che, per esempio, non sanno ancora leggere e scrivere, perché ci sono le immagini, oppure possono trovare varie forme, come per esempio la tombola, che possiamo costruire delle regole che ci consentiranno di intraprendere insieme questo viaggio. Ma, vedete, è la dimensione collettiva di questo rapporto che poi innesca tutte quelle dinamiche che sosterranno l'apprendimento nel corso di questo percorso. Allora, qui ci interrompiamo un attimo perché dobbiamo vedere che cos'è il punto 4. Il punto 4 dice, conosci la settimana di Mario? Offri varie e molteplici chance a tutti, piccoli e grandi. Allora, la settimana di Mario è una cosa di grande successo che io ho scritto, per caso, durante un corso di formazione per insegnanti, durante il quale cercavo di spiegare che cos'era effettivamente un sistema di e-learning attraverso l'esperienza di questo Mario, che poi ho inserito nel libro, nell'ebook che ho pubblicato l'anno scorso, appunto, sull'e-learning. E quindi è diventata, è stata conosciuta da tutti come la famosa settimana di Mario. Ma alla fine chi è Mario? Allora, intanto Mario è una persona adulta, quindi è una persona che può avere concluso le scuole superiori e passare una formazione più elevata. Perché? Perché mi serve proprio come esempio. Che cosa fa Mario? Mario, per esempio, il lunedì ha perso la lezione in direzza o l'webinar. Poi martedì alle 7 si connette alla lezione videoregistrata, mentre esce di casa per recarsi al lavoro, ascolta le lezioni in automobili, ci pensa su, ne vede delle parti durante una pausa. Interessante, dice, i processi di ascolto e di visione si fondono, si stanno formando dei concetti. Non sta studiando, sta, come dire, prendendo confidenza con qualche cosa che ha perso, ma in qualche modo può in parte recuperare informe diverse. Mercoledì legge un documento da un sito che è stato consigliato durante la lezione, giovedì lascia un messaggio nel forum, intanto prende un gelato a un tavolino, dovrebbe scrivere qualche cosa, ma vorrebbe riprovare, dallo smartphone è complicato, quindi ci pensa, ci riflette, un'idea, è ispirato, però passano due giorni prima che possa tornare sulla lezione. E così via, sabato, domenica. Quello che vi voglio mostrare, senza scendere troppo nel particolare, è che Mario ha una settimana nella quale ha compiuto un processo di apprendimento che magari Giovanna ha compiuto in una giornata e gli in tre giorni, Camilla, per esempio, l'ha ignorato. Se ne occuperà fra un paio di settimane. Forse sarà anche svantaggiata e scriverà in un forum, pant, pant, eccomi, sono in ritardo, ma cerco di fare quello che devo fare. Cioè, se voi ci pensate bene, l'e-learning offre proprio una grande possibilità a Mario e a tutti i soggetti che sono in questa condizione, cioè la possibilità di stabilire dei ritmi di apprendimento che dipendono in parte dalle caratteristiche del soggetto in apprendimento, quindi del soggetto stesso, e in parte dalle circostanze concrete che questo soggetto vive. Ci siamo riferiti a Mario, perché ovviamente in questa condizione Mario deve avere la libertà di poter fare questo, e chiaramente un bambino non ce l'ha, un bambino di 4-5 anni neanche e uno studente di scuola superiore forse, forse ce l'ha parzialmente al quarto e quinto anno, ma certamente non in questo modo. Ma noi dobbiamo sapere questo, cioè dobbiamo sapere che l'e-learning è nato come un'opportunità precisa rivolta a Mario, anche se la popolazione scolastica di età inferiore a quella di Mario non può, diciamo, attuare un sistema di questo genere, però noi dobbiamo tenerlo presente. Perché dobbiamo tenerlo presente? Beh, perché ci sono dei ritmi e dei percorsi, e non dobbiamo mai dimenticarlo, che fanno parte della storia di ciascuno. Per esempio questo è un adolescente che avrà i suoi amici, i suoi amori, il suo sport, avrà i suoi hobby, i suoi bisogni, anche ovviamente materiali, ma anche poetici, di passeggiare, e che fanno sì che la domanda deve essere posta in che modo vengono rispettati questi bisogni, queste necessità della vita, queste anche, diciamo, come dire, imprevedibilità che possono accadere durante la vita di questo ragazzino. come le possiamo rispettare? Per fare in modo che l'apprendimento, il processo, questo viaggio di cui ho parlato prima, ne rispetti i ritmi e i percorsi che sono del tutto particolari e soggettivi. E infatti qui allora arriviamo al quinto principio, e cioè che l'apprendimento è un processo asincrono, perciò rispetti i ritmi e valorizzi i percorsi. Guardate, vi faccio un esempio proprio terra a terra, che forse vi farà riflettere, ma diciamo che io sono il vostro insegnante e siamo in classe, in classe, quindi parliamo, abbiamo parlato dei primi quattro principi e io adesso vi chiedo un'opinione, ne discutiamo. Chi di voi interverrà? Beh, interverranno prima di tutto le persone che sono abituate a intervenire e che, oltre a essere abituate a intervenire, hanno un'idea, cioè si sono già fatte un'idea, su questi primi quattro punti che io ho esposto. Ma tra di voi, la maggior parte, ne sono sicuro delle persone che sono tra voi, non è pronta a intervenire immediatamente, magari vuole ascoltare, forse ha bisogno di tempo per esprimere un'opinione e forse non arriverà neanche nel prossimo periodo ad avere un'opinione esatta. È legittimo questo, noi dobbiamo considerare che questo è molto legittimo. Ma io che sono il vostro insegnante, che sarò bombardato dalla vostra discussione, torno a casa e penserò, wow, che bella discussione che ho fatto. È intervenuta Maria, è intervenuta Giovanna, è intervenuta Luisa, Alessandro, sono intervenuti, hanno detto un sacco di cose interessanti, eccetera, io sono stato condizionato dalla pressione che questa discussione ha avuto. Ora, io ho un'impressione falsa di quello che è successo. Perché è un'impressione falsa? Perché ho concentrato un processo tendenzialmente a sincrono all'interno di un meccanismo invece sincrono, obbligando, e quindi facendo un buco nell'acqua, molti di voi a esprimersi cosa che in effetti non hanno fatto. Questo capita normalmente. Ma se io dispongo di uno strumento che mi consente di dilazionare i meccanismi e il tempo dell'apprendimento da un sistema sincrono a un sistema asincrono, combinandoli entrambi, e quindi per esempio apro un forum, e quindi Mario e voi tutti potete scrivere all'interno di questo forum, io ottengo una serie di risultati. Uno, sicuramente una partecipazione molto più ampia, se non addirittura di tutti, perché adotterò degli accorgimenti per fare in modo che voi possiate intervenire tutti, e che lo possiate fare rispettando i vostri ritmi e percorsi. Quindi avrò un sistema molto più democratico di una discussione in presenza, per esempio. Ma non voglio contrapporre ovviamente le due cose, lo faccio per provocare, perché sto parlando di integrare questi due aspetti. Ma dal punto di vista dell'insegnante, cioè del sottoscritto nei vostri confronti, che cosa ho in mano io? Beh, io ho in mano il fatto che conosco questo processo, che è il processo di apprendimento, sviluppato su una timeline temporale, cioè parte da A e arriva B, e lo conosco per ciascuno di voi. Perché lo conosco per ciascuno di voi? Ma perché io ho raccolto tutti i dati attraverso questa combinazione che mi consentono di essere dentro questo processo? E allora di vedere che, per esempio, mentre questo personaggio giallo, lo vedete, è dentro un forum, poi salta, che ne so, la restituzione di un'attività e poi lo ritroviamo a lezione, poi salta una verifica e poi magari lo ritroviamo da un'altra parte dentro un forum e poi alla fine lo troviamo sui quaderni alla fine del processo, mentre il personaggio rosa magari farà un altro percorso e il personaggio azzurro ne farà un altro, ma tutti saranno dentro questo processo. Il problema non è tutti allo stesso punto, ma tutti allo stesso traguardo. E affinché siano tutti allo stesso traguardo io devo concepire precisamente il processo di insegnamento esattamente come un viaggio che viene intrapreso. E quindi il viaggio, ne abbiamo parlato qua, regole di ingaggio, il viaggio e il percorso. Un viaggio attraverso il quale io non perdo i miei studenti, perché? Perché lascio una molteplicità di uscite rientri lungo questo percorso che consentono esattamente a tutti poi di raggiungere lo stesso traguardo, ma non esattamente nello stesso tempo e non esattamente nelle stesse modalità. Allora, forse sarà interessante vedere il punto 6. Eh sì, perché il punto 6 dice pensa per setting, libera la lezione da schematismi, crea, sperimenta, usa la tua libertà di insegnamento. Cioè, cosa vuol dire pensare per setting e non per schematismi? Beh, il setting è, diciamo, lo stabilire un metodo, delle regole, ma all'interno di un ambiente, di un contesto. Invece se noi pensiamo alla lezione in termini astratti che prescinde da qualsiasi contesto, non abbiamo un setting, ma abbiamo un sistema di formatori aziendali, dicono bottom up, no? Cioè che cade dall'alto in sostanza e cerca di essere applicato. Noi invece vogliamo operare al contrario. Noi vogliamo che a partire da determinati contesti possiamo ragionare perché abbiamo in mano esattamente questo processo e siccome lo abbiamo in mano, o cerchiamo perlomeno di averlo in mano, o comunque abbiamo degli elementi di osservazione importante, beh, possiamo creare dei setting. Io qui ve ne presento tre, ma senza approfondirli, perché poi su questi temi svolgo continuamente dei webinar gratuiti a cicli, diciamo a periodi, no? Quindi se poi vi mettete in contatto con me vi manderò poi le, come dire, le date delle prossime iniziative in questo campo, no? Però osservate, per esempio, lezione live A. Partiamo da un nodo, quindi un nodo che prevede non più di 6-10 minuti di uno strumento, diciamo una metodologia che adesso non stiamo ad esaminare, che mi consenta di affrontare questo nodo. Quindi poi adotteremo delle attività che consentano di sviluppare la comprensione attraverso anche un back, cioè un ritorno indietro, poi la presa in carico di note, poi dei test magari svolti anche in modo asincrono, poi cercheremo di fare in modo che quello che abbiamo affrontato possa essere reinterpretato e infine che possa addirittura essere l'oggetto di espressioni creative, cioè di prodotti attivi realizzati come risultato di tutta questa. E alla fine spostiamo la lezione, cioè dopo tutto un lavoro di questo genere. Perché? Perché a questo punto noi potremmo lavorare, per esempio, su un determinato apparato concettuale che abbiamo avuto il tempo di affrontare e sviluppare. Lo possiamo fare con degli instant video, per esempio, didattica strisce, costruzione di album delle figurine, cioè, ma veramente abbiamo di fronte un mare di attività strutturate e interessantissime che, per esempio, possono sostenere questo modello. Oppure, ad esempio, l'ho chiamato B per distinguolo dal A, ma non perché c'è una scala di valori. Vogliamo partire da una vera lezione che piace tanto, è così simpatica, ma benissimo. Allora proponiamo dei quiz di gioco, poi una discussione, poi proponiamo dell'attività sul quaderno, quindi ripetiamo questo meccanismo, rimettiamo in gioco di nuovo degli elementi di attività, proponiamo degli elaborati e così via. Vogliamo parlare ancora di un altro modello, ancora differente da quelli precedenti? Per esempio, partiamo da un modello sincrono fondato su uno split screen, screen della durata di 40-70 minuti, dove gli studenti apprendono senza avere alle spalle alcuna lezione, perché attraverso questo sistema noi forniamo anche dei contenuti. Possiamo ottenere un live control delle attività dirette, quindi possiamo sostenerli direttamente anche a distanza, perché attraverso determinati strumenti noi possiamo vedere ciascuno di questi studenti che cosa esattamente sta facendo. Quindi possiamo dire guarda Mariolino che stai scrivendo questa cosa perché la vediamo, la vediamo e se vogliamo la possiamo anche proiettare, se vogliamo la possiamo anche condividere e quindi possiamo anche intervenire, possiamo anche bloccare tutti, soffermare l'attenzione e così via. E poi dobbiamo però cristallizzare l'attività attraverso quaderni elaborati, poi a questo punto magari si può riprendere una lezione anche classicamente tradizionale, se volete, e quindi riproporre delle attività a split screen per chiudere il cerchio, per esempio. Ma vedete, adesso so già che qualcuno di voi dirà, ma dov'è che trovo questi modelli? Ma questi modelli siete voi che li dovete creare, attraverso chiaramente un confronto, una discussione, anche con i vostri colleghi, far circolare le idee, ma sono dei modelli calibrati che non si possono prendere e applicare così fuori contesto, cioè nascono proprio da determinate esigenze. Per esempio questo nasce dalla esigenza di ripetere, di ripetere più volte determinati contenuti in diverse modalità. Perché? Perché ho sentito in determinate circostanze il bisogno che i ragazzi potessero avere questa opportunità. Qui invece, per altri motivi, e quindi anche in questo caso noi parliamo proprio dell'insegnante che può utilizzare la sua libertà, la libertà proprio il piacere che è legato a questa libertà di insegnare, che non significa applicare pedestremente un modello, per quanto anche possa aver funzionato perfino a distanza, ma come se avesse trovato, diciamo, la soluzione che gli permettesse di risolvere il problema dell'e-learning. Quindi il punto 6 è un appello alla creatività dell'insegnante. E il 7? Beh, il 7 dice, usa il tuo tempo e la tua professionalità per sostenere i processi cognitivi. detto in altri termini, io ti chiedo, te che stai ascoltando in questo seminario, ma tu credi di essere Robert Kappa? Sapete chi è Robert Kappa? Chi era? Era un grande fotografo. Allora immagina di essere Robert Kappa e sei a casa tua, com'è adesso? A casa tua. Tu sei il grande fotografo e che sta lavorando nella sua camera oscura e sta creando qualche cosa. Suonano alla porta. È il tuo vicino di casa. Il tuo vicino di casa ti chiama e ti dice, scusa, Robert Kappa, ho rigato l'auto qui sotto, potresti scendere con la tua, come si chiama, leica, eccetera, e fare una foto? Non so voi, ma io guarderei il vostro vicino e gli direi, ragazzo mio, la foto alla tua auto e al tuo piccolo incidente te la fai da solo. Hai i tuoi strumenti, i tuoi cellulari, non scomodi me che sto facendo un lavoro di un altro tipo. Che cosa voglio direvi con questa storiella? Voglio dirvi che il vostro lavoro conta. Siete insegnanti. Vi dovete occupare delle cose che contano, non delle sciocchezze. Questo vuol dire che dovete avere a che fare con l'apparato concettuale dei vostri studenti e in qualche modo osservarlo, partendo dal principio di equivalenza dei concetti di Vygotsky, che non vi spiego per i soliti motivi, ma vi dico solo questo. Voi dovete sapere che ogni nodo, diciamo ogni variazione qualitativa o quantitativa di un nodo concettuale, di qualsiasi disciplina o anche interno alla vostra disciplina, ha un effetto su altri nodi apparentemente distanti e che non c'entrano nulla. Questo è il polo dell'astrazione, quindi più si va in alta, più diciamo si affrontano dei ragionamenti simbolico astratti, più si va in profondità ovviamente, più la qualità del contenuto è importante. Se voi sapete più o meno che una cosa di questo genere esiste ed è uno dei meccanismi dell'apprendimento, allora voi non vi occuperete più di tutto l'insieme, ma vi occuperete di quello che è, presumibilmente, in base alla vostra esperienza, sulla base dei vostri studi, dell'osservazione dei vostri studenti, delle tematiche, delle tecniche tipiche della vostra disciplina scientifica, beh vi occuperete di quello che veramente fa crescere i vostri studenti, detto in altri termini. Forse non è il caso che io tenga una lezione sulla storia degli imperatori romani, forse però ci sono all'interno di questa storia dei nodi concettuali fondamentali sui quali posso comportarmi come Robert Kappa, e cioè rimandare un certo tipo di attività su determinati contenuti ai miei studenti e concentrarmi invece sulle questioni che veramente aumentano il livello cognitivo dei ragazzi. E quindi ecco perché, per esempio, uno dei sistemi è quello di lavorare molto a livello iconico. Anche questo è un argomento particolarmente interessante, che ha tutto un suo sviluppo, chiaramente, che vi accenno solo qui, perché quello che mi interessava è proprio il principio. Quindi, o costruire dei contenuti molto semplici, fruibili, ma che non sono la sintesi di contenuti importanti, ma sono precisamente la rappresentazione di alcuni nodi fondamentali. Perché, guardate, non si va avanti nell'apprendimento se non si affrontano alcuni nodi. Rimarranno non quelle che vengono chiamate le lacune, perché le lacune riguardano dei contenuti. Le lacune sui contenuti si possono sempre colmare, oggi si può studiare quello che si vuole, ma il problema è proprio la struttura logico-concettuale del pensiero. Ed ecco perché, quindi, abbiamo richiamato alla memoria uno dei tanti studi che Vygotsky fece all'epoca, che poi via via sono stati, appunto, confermati. Ma allora abbiamo il punto, non l'abbiamo numerato più, cos'era? L'ottavo, eccolo qua. Il punto 8, dobbiamo considerare che la didattica è multicanale. La visione critica e la padronanza degli allievi non sono secondari. Certo, perché se noi svolgiamo questo compito, quindi di concentrarci su determinati aspetti per aiutarli ad andare avanti nel loro sviluppo cognitivo, beh, allora dobbiamo veramente fare in modo che loro affrontino il mondo delle conoscenze nella sua totalità. E questo mondo è un mondo multicanale. E il canale non è internet, il canale non è la ricerca di Google. Il canale sono, non lo so, la pagina di scienze della stampa. È un canale, è il canale delle scienze, esattamente che si può assimilare al canale scientifico di focus piuttosto che alle conferenze scientifiche dell'Università di Harvard. Dobbiamo cambiare il nostro approccio alla rete. Non è un approccio alla rete, è un approccio ai canali, cioè a quelle strade, a quei contenitori che veicolano delle informazioni, dei contenuti che più o meno sono omogenei. E dobbiamo fare in modo che i nostri studenti possano sviluppare delle attività di ricerca, di selezione, di combinazione e di trasformazione direttamente attraverso i canali. Perché in questo modo sviluppano il loro senso critico e sanno manipolare le informazioni. L'avete sentito, le redazioni che mi hanno preceduto, sull'importanza che oggi è data dalla necessità di svincolarsi dall'influenza, direi globale, anche nefasta, che la rete in quanto tale gioca sulle giovani generazioni. Bene, ma questo è il procedimento scientifico. Cosa fa uno scienziato? Cerca, seleziona, combina e trasforma. E parte sempre da un contenuto che era preesistente. Ora, Duchamp ha avuto la fortuna che mettendo due baffi ha prodotto un quadro che oggi vale 750 mila dollari. Ma il tema della copia non è un problema la copia. Tutto il nostro sapere, tutto il sapere umano, passa da un'acquisizione del sapere precedente, cioè da una copia. Ricerca, selezione, combinazione e trasformazione. Certo che se noi limitiamo il processo alla ricerca, come in tanti casi viene fatto e qualche volta alla selezione, e non tocchiamo il livello della combinazione di contenuti e della loro trasformazione, e otteniamo dei risultati negativi che ci portano poi a lamentarci su questo benedetto e annoso tema della copia. Ma proponiamo degli esercizi molto semplici, preliminari, per esempio, trasforma questa frase in uno slogan efficace e incisivo, oppure a scuola superiore, scrivi il test usando le stesse parole, ma non lo stesso ordine, però devi conservare lo stesso significato. Questo vuol dire lavorare con i contenuti che abbiamo a disposizione. E questo rende i nostri studenti più intelligenti. Poi immaginate cosa vuol dire confrontare questi risultati, trovare molteplici soluzioni, e quindi di nuovo integrare. Integrare cosa? Beh, l'attività sui canali con la cristallizzazione sui loro quaderni. Guardate che sto dicendo quaderni, non sto dicendo PowerPoint, non sto dicendo Google Documenti, Word o chissà che cosa. Quaderni in bianco e nero, piccoli, tenuti con un certo metodo. Perché? Perché questo è il loro quaderno, è l'oggetto che si porteranno dietro. e cercate gli appunti di Leonardo. Bene, sono i quaderni di Leonardo, dei nostri piccoli o grandi Leonardo, cioè sono gli strumenti che loro hanno per loro, i loro punti di riferimento, sono i loro sistemi di organizzazione intellettuale. non può che essere un quaderno. E guardate che risultati noi possiamo ottenere. Per esempio, questo è il quaderno di uno studente nel mese di settembre, quindi è venuto di quarta, superiore, quindi pensate che percorso scolastico, bene, questo è il quaderno dello stesso studente cinque mesi dopo. È una forma di organizzazione mentale. Questo è un appunto, però un appunto di un altro studente al quale, che ha imparato anche a disegnare, non solo a scrivere. Bisogna sapere abbandonare il digitale quando è necessario e dedicarsi invece ai sistemi di scrittura tradizionale. Questo ragazzo, voi forse farà un po' impressione magari per come scrivere, ma non ha una documentazione precedente, ma è un risultato enorme questo. E poi guardate, questo è un compito di Google, è il classico compito di Google che voi conoscete. E cosa è stato consegnato? È stato consegnato il quaderno, non un foglio elettronico, una presentazione. È la resistenza della manualità sulla carta. Ovviamente con i suoi ritmi di apprendimento e di scrittura, perché questo ragazzo ci metterà due settimane di più a svolgere il lavoro rispetto, per esempio, a questo. È evidente. Ma sapete che crescita cognitiva significa? E che cosa significa per noi avere sotto mano, con un colpo d'occhio unico, tutti i quaderni dei nostri allievi? Ma questo vuol dire, qui ve lo dico e poi ci ragionerete su, ma questo vuol dire che noi dobbiamo ritirare questi quaderni sistematicamente, tanto quando siamo in classe che a distanza. Io ho avuto la fortuna di insegnare per tanti anni alle scuole elementari, dove veramente ho imparato, diciamo, l'ABC della pedagogia, che mi serve poi per ragazzi 18-19-20 anni, perché a parte l'età è che si accendono due sigarette fuori da scuola, ma i meccanismi non sono diversi. E l'insegnante deve avere cura di questo processo, fin dall'ambiente che lui allestisce e poi via via. E l'insegnamento, che sia a distanza o che sia in presenza, non può essere l'attribuzione di una serie di compiti qua e là per quanto divertenti, originali e simpatici, perché quello che fa l'insegnante deve essere collegato, deve avere uno scopo e non può essere qualche cosa di occasionale. Ora, prendete questo, ve lo stavo mostrando, perché? Perché questo ragazzo ha tirato giù una scaletta sulla guerra civile in Yugoslavia, molto interessante, e poi guardate che cartina ha fatto. Non c'è niente in questa cartina, ma noi ci dobbiamo interrogare, ma come mai tu sei così in grado di analizzare e ricordare e capire una cronologia che ti costruisci e poi la rappresentazione è esattamente il contrario di quello che tu hai scritto. Ma qui noi abbiamo, ma guarda che questo è un caso comune all'interno delle classi, dei ragazzi che conosco. Comune. Da che cosa dipende? Dobbiamo ragionarci. secondo me dipende dal rapporto con i canali, per esempio con le immagini, che è un rapporto totalmente inesplorato e totalmente privo di senso critico, perché non si è fatto questo lavoro. Ma, non voglio arrivare a delle conclusioni che francamente non ho, ma pongo un problema. Non è accettabile per un insegnante una cosa di questo genere. Cioè, non è che non è accettabile il fatto di avere il disegno dell'Ulgoslavia perché è sbagliato. No, ma perché non corrispondono i processi mentali. Non corrispondono e quindi c'è un problema. E questo problema è ciò che fa interessante l'insegnamento. Perché? Perché mi spinge a chiedermi quali soluzioni io posso adottare. E come vedete, ogni ragazzo ha dei sistemi diversi per poter cristallizzare che cosa? Il rapporto con la multicanalità, cioè con i canali. E questi sono i temi che noi, secondo me, dobbiamo aggredire. Tenendo conto, ma questo sorvolo, perché è un argomento ormai di moda, tutti ne parlano, la creatività e il gioco sono componenti dell'apprendimento crea giochi divertiti. Ma non farlo come qualche cosa di occasionale. Farlo come qualche cosa di sistematico. Per esempio, se tu costruisci un libro di testo con i tuoi ragazzi e lo puoi fare attraverso tutta una serie di modi, questo è un lavoro che determina una continuità. Certo, tu il libro di testo l'avrai a fine anno, quindi sarà inutilizzabile. E poi avrai un libro di testo che non userai per la classe che prenderà il posto di quella che ha abbandonato l'anno in corso, cioè l'anno in cui ha creato il libro di testo. Perché? Ma perché il bello è esattamente costruire il libro di testo. Quindi, ecco che tu produci un oggetto inutile, ma un oggetto che conti, da un punto di vista diciamo tradizionale, inutile, ma è un oggetto che contiene registrazioni, contiene schemi, che contiene filmati, che contiene un processo, quel famoso processo di cui ho parlato prima, che può essere fondato su degli elementi di creatività e gioco. ma questi oggi, perché appunto tutto questo è di moda, è diventato molto di moda, sono occasionali, no? Ho trovato una bella cosa qua, proviamola, facciamola, facciamola in questo modo. No, deve esserci una continuità. Perché deve esserci una continuità? Perché voi dovete lavorare esattamente su questo sistema e questo diciamo è proprio il, come dire, la bussola che dovete sempre avere in testa, è per questo che noi lavoriamo e quindi anche la creatività e il gioco servono per, certamente, per dare una componente di divertimento, no? Questo lo do per scontato, è fondamentale, ma hanno lo scopo di creare un filo conduttore per raggiungere determinati obiettivi. Per esempio, questa è una tecnica che ho inventato io e che ha avuto appunto un grande successo che è la rappresentazione di contenuti attraverso strisce, sempre poi rappresentate attraverso il quaderno, per dire. E poi, interessante, ma non possiamo sviluppare oltre questo argomento, lo butto solo lì, l'autoosservazione da parte degli studenti. Perché l'autoosservazione attribuendo, per esempio, dei punteggi piuttosto che dei valori, come volete voi, secondo le vostre inclinazioni, ma perché l'autoosservazione, attenzione, non l'autovalutazione dopo un trimestre, un quadrimestre, no, ma un'autoosservazione continua, perché questo aumenta la consapevolezza degli studenti, lo sapete anche voi, ma vi porterà dei dati interessanti. Per esempio, vi dimostrerà che gli studenti hanno una grande sottovalutazione delle loro capacità e questo e qui viene fuori, in tutta la sua portata. Ed è un grosso problema perché? Perché noi vogliamo che i nostri studenti siano consapevoli, siano, certo, non dei narcisisti bulli che si credano chissà che cosa, ma che abbiano la consapevolezza delle loro enormi capacità, assolutamente sì, assolutamente sì, non possono vivere in un mondo nel quale si sentono inadeguati, che, scusate, tra l'altro, che merce di lavoro saranno mai, in che mani finiranno, se si sentiranno delle persone inadeguate e se considerano a sentirsi delle persone inadeguate. Quindi discutiamo con loro dei risultati raggiunti e facciamo in modo che loro possano osservare questi stessi risultati. E qui concludo, concludo con questo principio, e cioè rovescia lo schema classico della valutazione, verifica e valuta per sostenere l'apprendimento, non per verificarlo. Attenzione, non per verificarlo. Se voi partite da ciò che ho spiegato fino adesso, è indiscutibile che i vostri studenti studiano, indiscutibile che i vostri studenti lavorino, si impegnino in una serie di attività. Non c'è bisogno di valutare questo. C'è bisogno invece di fare in modo che la valutazione stimoli l'apprendimento stesso. E quindi, qui posso dire tutta una serie di cose che potrebbero essere giudicate come delle eresie. Per esempio, se siete amanti dei test consegnate questi test molto prima dell'esercitazione in classe, fategli rifare fino a che non ottengono dei punteggi che sono il massimo possibile e poi riproponeteli in classe. Dice, come? Eh sì, ma sì, perché sviluppando questi test imparano. Poi in classe dovete applicare delle metodologie come quelle che vi ho accennato prima, ricordate quelle sulle striche, no? Per dire, che però sono delle vostre metodologie che voi ricavate. Anziché pensare che questo sia il test della verificona dove tutti studiano per rispondere a delle domande pensando di prendere un punteggio, glielo date prima. In modo che i ragazzi siano liberi di prepararsi e sappiano che la valutazione non è un pregiudizio nei loro confronti e il punteggio non è lo scopo dello studio. Cerca nei canali rispondi, durante la lezione, per esempio, cioè dovete fare in modo di avere molte valutazioni per poter osservare esattamente questo processo, ma quindi dovete spezzare queste valutazioni in tutta una serie di casi, non solo, ma dovete anche creare delle valutazioni differenti, diverse, interessanti, per poter sostenere un sistema all'interno del quale c'è una valutazione continua, ma non nel senso burocratico, in cui certe volte questo termine è stato presentato, proprio come strumento per dire bene, stiamo affrontando questo tema oggi, ok, stop, breve sondaggio, cosa dite di questo? Parliamone, vediamo, confrontiamo, stop un attimo, provate a scrivere una cosa al volo su questo, sul quaderno, vediamo cosa salta fuori, stiamo lavorando, perfetto, cerchiamo nei canali, rispondiamo, diamo una risposta, facciamo, lavoriamo, diamo delle valutazioni che riescano a occupare diciamo così tutto questo meccanismo e vedrete che in questo modo davvero la valutazione diventa uno strumento per sostenere l'apprendimento, però non dico nient'altro perché su questo tema ho realizzato, ho partecipato anche a un convegno, così ho poi realizzato anche un filmato in cui spiego bene quali sono i dieci step diciamo per cambiare il sistema di valutazione e basta, devo dire sono anche un po' stanco e forse ho sforato, però nessuno mi diceva niente e quindi